Ciao a tutti! Come viveva l'uomo nel paleolitico? Nel periodo precedente, anniolitico, in cui viene inventata l'agricoltura, l'uomo poteva vivere soltanto da nomade, doveva necessariamente spostarsi, finite le sue risorse alimentari. Vi raccomando, non perdete i prossimi video in cui affronteremo altre tematiche relative alla storia. Ciao, ci vediamo al prossimo video! Grazie a tutti!